Una motivazione per cui preferivo il cebro della prima casa, non intendo quindi la camera di Simone, è il fatto che quasi sempre mancava Gianluca, Mr. Flame. O quando c'era, stava lì nel divanetto, spabalanzato, come un grimer, a semplicemente respirare. Però il focus era quasi sempre su Simone e Davide. Proprio parlando di Gianluca, per me non è che è semplicemente l'anello debole, come molti lo definiscono. È banalmente un malus. È qualcosa che se non ci fosse, sarebbe meglio, interrompendo spesso con sì, suoni da Snorlax. Volta in cui Gianluca dicesse qualcosa che per me non fosse banalmente scontato col discorso. Non trovo mai che le sue uscite siano interessanti, intelligenti, che aggiungono un buon punto di vista. Non sopporto il suo modo di overreactare alle situazioni, le urla, i versi. Forse ci sono giusto un paio di gag simpatiche, che mi ricordo di lui. Ma è una di quelle persone che magari quando la ciotte i fanno tele di aver detto una cosa sensata. Lui se ne esce magari dicendo, eh, io faccio finta che in realtà non mi va, che in realtà non ho niente da dire. Ma non vi credete, ragazzi. C'è sempre questo... Un documentario con la voce fuori gatti. Ricordare, nelle pochissime volte in cui fai delle uscite, leggermente sensate che magari per Davide sarebbe lo standard, per lui sono l'eccezione, che no, siamo noi i scemi che lo sottovalutiamo. Quando secondo me lui si è trovato lì per fortuna e continua a restarci per fortuna, non aggiungendo valore nella trasmissione. Poi magari fuori dal cerebro, non lo posso sapere, è una persona interessantissima. Sì, che ne so. Spesso sta intere live zitto, giustificandosi delle volte dicendo, raga, se sto zitto è perché magari sono già d'accordo con quello che dice Davide o Simone, quindi non aggiungo altro, quando secondo me si fa solamente fatti suoi. Anche quando gli vengono mostre delle critiche nel Discord, lo trovo sempre poco lucido nelle risposte. scazzato per poi giustificarsi che magari scherza o che non dovete dirmi quello che devo fare o... Insomma, usando il metodo infantile dell'offesino come risposta a una critica. Ammetto che magari mi sarei potuto preparare il video meglio andando a cercare indietro tutte le clip, però con tutte quelle live, con una, due, tre ore di live al giorno, è difficile anche andare a litroso. Ho un'idea, ho un'idea. Microphone, Marco, aspetta, ecco. L'idea è questa. Volete... Ho urlato in faccia, Simone voraggio. Com'era quello, la canonna? Com'era? È tua! È tua! Vai Davide, questa idea è per loro! Allora, sto urlando, no, poverino, soffende. Mi ho dimenticato cos'era. Allora, il cerbero che vorrei. Volete esempio che io non ci sia e che ci sia Dave al mio posto per una live? Pagatece! Volete che Simone arrivi obbligatoriamente puntuale ogni giorno? Pagatece! Vedete ogni speranza. No, non ci pagano. C'è chi fa l'Holy Fans, giustissimo. C'è chi fa il Patreon, c'è chi fa i video a dedica come quel depensante assoluto di Frusciante, giustissimo. Ma povero Frusciante. Ce ne stanno tante cose. Per noi facciamo così. On le agent. Il cerbero che vorrei, sì, pagatece. Uno scrive, io vorrei una live così, con ospite questo, senza quello, senza quello. Si fa una stima di quanto ci vale in termini di impegno, eccetera. Collocazione, spostamenti, ingaggi e si farà una stima. E se voi volete, si farà e poi si scriverà. Il cerbero che vorrei, hashtag uno, prima puntata, offerta da sto cazzo. Caro mio, vuoi che io stia a casa ogni giorno? Vuoi che io non venga in ogni live così? Mi piacerebbe che stia a casa tutto il giorno e poi via. Scrivemi in privato, scrivemi in privato. Vabbè, ci guadagniamo pure noi. Con tutto quel poco che hai, mi paghi un weekend in WUVZELA. No, no, fate così, fate così. Non vorrei vedere nessuno tranne il Chitano. Tutti i giorni vieni qua, c'è una camera. E noi rimaniamo a casa. Un sistema, tipo come crei la bacchetta, WUVZELA, come crei ad esempio. C'è bagate. Io non vengo. Tu crei con dei blocchi, no? Puoi anche pure fare solo Chitano, tipo, e ti viene tipo 30 euro, no? Ci metti il tipo nei siti dove crei le cose. Ma no, magari 30 euro dopo sta qua. Ci metti il Chitano. Grazie, Luis. Grazie, Luis. No, regà, generatore automatico e manuale di live del Cerbero. C'hai i soldi. Voglio fare una live con Chitano, Rubino e Dave che reagiscono a un link di Justice. È il Cerbero che vorrei, è una live, pagateci. Quella l'idea. L'intelligenza artificiale calcola il costo. Aviamo una cosa di mail. Il Cerbero che vorrei, chiocciolagmail.com, pagateci. Geniale. Ce sta, eh? Non vengo solo per 30 euro. Tipo, oh, io non voglio, Mr. Frame a Cerbero, me paghi il 100% del mio stipendio a sdrubalinico, così io non lo incasso dalla società, lo spartisco a loro. Sei contento te? Sono contento di loro che guadagnano di più. Io guadagno i stessi sordi, sto a casa. Oh, ma te che stiamo a parlare? Ma questo è il futuro, mi dovete leccare le palle. Genio, il Sio è per questo, il Sio. La prima volta che il pubblico ha il controllo, così se ne verrà conto che le idee sono Vedete le calcazze, però te mette le bagate. Che tristezza, Flame. Basta che continui a Falsab. Spesso questa cosa la vediamo. Indovinate dove? Il cinema. Che tristezza, diciamo, no, come hai detto, vi renderete conto che far scegliere sempre il pubblico è una merda. Questo è vero, ma non per noi, non per noi. Non scelgono un cazzo la maggior parte. No, non per noi, però è molto vero. No, non siamo per i fan service. Le opere costruite interamente sul volere del pubblico sono di solito puerili, tipo Spider-Man non Way Home, che è proprio, come direbbe Germano, la rappresentazione plastica di questo discorso. Secondo me il prodotto va criticato anche asparamente, però non va scritto da chi ne fruisce, altrimenti diventi tu, tra virgolette, l'artista. In certi casi può anche essere un esperimento interessante, hanno fatto anche varie opere d'arte di vario tipo, create dal pubblico, da una massa. Ok, guardate che non è un'idea da sottovalutare a questa, perché io mi metto pure nei panni di questo povero ragazzo. Supponiamo che magari, che ne so, un domani viene Marco Montemagno. Magari questo dice, madonna mia che colpo che c'ho addosso, che in quella live c'è pure Flame, sicuro la rovina. me paghi, io me ne sto a casa. Il cerbero che vorrei. Tipo, c'è la live con Montemagno, mo' gli mando un'email al cerbero che vorrei. Flame deve stare a casa. Ok, te non lo dico qua, te non lo posso rivelare per motivi contrattuali. Io ti dico quanti soldi devi dare al conto della Sdrubalini e si fa, io sto a casa. Geniale. Pagato per, cioè capito, così ti sei, era tutto un piano ovviamente, ti sei reso insopportabile al pubblico, per farti pagare e rimanere a casa. Vabbè, ma questo è marketing. Lo fa da tipo cinque anni questo piano. Guarda che se io vedo Vanna Marchi io mi inginocchio. Sì, sì. Si inginocchia lei. Bene. Dammi un annetto o due. Diciamo, con l'idea di Gianluca, rimaniamo a casa e ci pagano il corrispettivo di una live. Il cerbero che vorrei. Voi potete pure immagacce per i nostri mani. Cioè voi vi mettete d'accordo, il sabato fate 100 sub a live spenta. Magari. Ce lo devono comunicare per mail prima. No, no, sì, sì, sì. Vediamo, noi apriamo comunque la chat di Twitch, proprio orario preciso, ore 15, 100 sub. E noi rimaniamo a casa. Ricordato in tutto il video.